Fate passare, fate passare. E' un amico della signora, come io, come il signore, perché siamo vicinati di negozi. Vi salutate è una cosa normale, come per tutti i quarant'anni, ogni volta che si vede vuoi il caffè, non vuoi il caffè, stiamo scherzando. Sono rimasto sconvolto di quello che succede in questa città.